Buongiorno, benvenuti a questa segna stampa di oggi lunedì 29 luglio. Oggi c'è una grande lezione che ci danno tutti quanti i giornali garantisti, quelli che hanno messo in galera tutta Italia insieme a Mani Pulite, gli amanti dei magistrati, quelli che pubblicano tutte le intercettazioni, quelli per cui Siri è già colpevole prima di ogni processo. Grande lezione di tutti quanti i giornali garantisti. Repubblica, la stampa, ci spiegano, ve lo dico bene, la vergogna e il dolore sulla morte del carabiniere. La vergogna è per quella foto di uno dei due ragazzi americani con la benda sugli occhi. Quello è il tema fondamentale per tutti quanti i giornali. Pagina 2 e pagina 3 della Repubblica. La foto shock, ma a Salvini va bene. In realtà quella è una foto tremenda ovviamente perché non fa parte della dignità di un paese civile, è quello di mettere le bende agli occhi e di far riprendere, come possiamo dire, le manette. Vi ricordate quelle di Carra, no? Durante Mani Pulite, vi ricordate questi stessi giornali progressisti, quanto in realtà fecero una battaglia molto tiepida su quelle manette, su quegli schiavettoni a Carra, il tesoriere della miseria, ma tesoriere forse della democrazia cristiana. È ancora Repubblica, può valere l'estradizione. Già Maria Flick, la vergogna di quella roba lì. Abbiamo già messo un po' in secondo piano la questione che si è stato accoltellato per 11 volte questo Carabiniere, da due ragazzi, due cocainomini fradici, che pensavano fosse un pusher, è come se ammazzare un pusher ovviamente si potesse fare in questo paese, nell'Italia. E poi il ragazzo americano, insomma, questa è l'idea di questi due ragazzi americani che sono stati, diciamo, brutalizzati dai carabinieri italiani. Dice giustamente Belpietro, e nomina quel nome che non si può evocare, non è mica Cucchi, ragazzi, questa persona qua, non stiamo parlando di uno che è stato pestato. Secondo le ricostruzioni, non c'è garantismo nei confronti del Carabiniere che avrebbe messo quella benda, cioè il garantismo nei confronti delle persone che hanno coltellato 11 volte, ma nei confronti del Carabiniere che avrebbe messo questa benda è già condannato, è già un delinquente, non è già vero quello che ha detto. Cioè lui deve essere messo in galera, cioè i cazzo di garantisti rompono le balle giustamente su un fatto che non si può fare ma non darò nessuna garanzia al Carabiniere. Me ne danno evidentemente 100.000 a uno che ha coltellato 11 volte, 11 volte un essere umano. Lasciate perdere un Carabiniere, il che comunque è un aggravante. Non è il caso Cucchi, dice Pietro, non è stato né picchiato né brutalizzato. Anzi, la stampa, che orrore quella foto, usa quella foto per annullare il processo. Altro titolo, nessuno parla inglese con nostro figlio. Io immagino quante persone parlino italiano quando viene arrestato a New York. Manette violano il diritto europeo. Insomma, ragazzi, è una roba incredibile. Sembra che il problema oggi sia quella foto, non sia la professoressa che ha detto uno di meno, pagata da noi contribuenti, non sia il fatto che è stato ucciso un Carabiniere, non sia il fatto che i Carabinieri non possono tirare fuori un'arma perché se tirano fuori un'arma vanno in galera, perché sono attaccati dagli stessi garantisti che non vogliono che i Carabinieri mettano la benda e non vogliono neanche che spari. Perché se avessero sparato quei Carabinieri, oggi avremmo forse un ragazzo americano morto e dei Carabinieri in un gigantesco processo fatto dagli Stati Uniti, dall'Italia, da Babbo Natale contro la violenza dell'Italia. Fantastico, Paolo Graldi, oggi sul Messaggero, in cui dice spacciano il carnefice per vittima. No, non esageriamo, cioè va bene tutto, ma non spacciamo il carnefice per vittima o il complice del carnefice. Il procuratore generale Salvi dice inchiesta regolare. Allora, mentre tutti i Corrieri, Repubblica, tutti quanti i grandi giornali, lasciate perdere per un attimo la verità, il giornale, perché noi siamo dei giornali di fascisti, no, salviniani, perché sono diventati provvisamente salviniani, ma i giornali che un tempo erano berlusconiani, ma leggiamo il Messaggero, che voglio dire, fino a prova contraria di un signore che si chiama Caltagirone e che non mi sembra che ancora faccia politica a differenza di quello che vuol fare forse Cairo o di quello che De Benedetti ha fatto negli ultimi trent'anni, con la stampa oggi e con Repubblica ieri. Graldi spacciano il carnefice per vittima. Il giornale invece fa un'altra operazione, politica evidentemente, pubblica le foto, quelle che veramente fanno orrore al giornale, cioè 12 foto di 12 carabinieri morti negli ultimi anni in servizio. E dice Sallusti, la sinistra e i media usa sulle barricate per il giovane bendato. queste, dice Sallusti, sono le foto che non avremmo mai voluto vedere. Canè, anche lui, sul quotidiano nazionale, altro giornale che non mi sembra sia il salbiniano, fino a prova contraria, niente lezioni dagli Stati Uniti per il titolo che fa il quotidiano nazionale, una benda e 11 coltellate. Ombra sulle dichiarazioni, invece continuano gli altri giornali, quelli belli garantisti, che ci spiegano che una roba ha a che vedere con l'altra. Adesso anche, voglio dire, il diritto sarà una cosa complicata, ce lo spiegherà già Maria Flick, ci spiegheranno le procedure, ci spiegheranno i film americani, per cui le acquisizioni delle prove devono essere fatte anche delle confessioni, con delle procedure, gli incidenti probatori, quello che volete voi. Ma ci stanno spiegando tutti quanti che è più grave la benda della cosa. Anzi, diranno, no, non è vero, non diciamo questo, diciamo semplicemente che non c'è bisogno di mettere la benda. Certo, non c'è bisogno di mettere la benda. Ma se tu fai pagina 2, pagina 3 del giornale soltanto su quella benda, tu hai un problema. E il tuo problema si chiama Matteo Salvini. Chiaro che il punto è quello. Quindi la politica non la buttano loro. Siete voi che la buttate in politica, fino a prova contraria. Favoloso, a proposito invece delle giravolte di questo governo, veramente incredibili, ce le racconta Bracalini, se così fosse vero, sarebbe allucinante. E cioè che vorrebbe il ministro fantastico dell'ambiente, il forestale Costa, vorrebbe, sapete che idea non gli è venuta? Aumentiamo le accise sul diesel. Perché si tratta di un sussidio di fatto ambientale. Il fatto che le accise sul diesel, che sono 6,617 centesimi contro lo 0,728 della benzina, diceva, beh, ma il diesel inquina, quindi bisogna far pagare le accise uguali a quelle della benzina verdi. Sono dei fenomeni. Vi segnalo che nel 1993 la Commissione Europea, motivo per il quale c'è questa differenza di accise, lo spiega bene Bracalini, perché aveva deciso che il diesel inquinava di meno. E adesso che abbiamo trovato l'Euro 6, che è il diesel che inquina meno di tutti nella storia, li vogliamo penalizzare, sia a livello europeo, sia a livello, a parte, diciamo, quelli che si possono girare col suvvone Mercedes, con quella ridicola, diciamo, ipocrisia, per cui se c'hai un Mercedes a benzina inquidi meno che se c'hai una macchina diesel, perché questo è il genio, oppure sai che cosa fai? Ti compri un Mercedesino con 20 cavalli, con 20 cavalli di ibrido, una presa per il culo che soltanto i tedeschi della Mercedes ci possono vendere, fai il Mercedesino un po' ibrido e non paghi manco il superbollo e paghi il bollo ridotto, invece se c'hai un diesel Euro 6 ti fanno un mazzo così. Insomma, questo è il sistema europeo, grazie a quei geni europei. Beh, io trovo fantastico oggi il pezzo di Zatterin sulla stampa, la partita, ragazzi, il problema europeo oggi è che la nuova presidente Ursula vuole metà donna e metà uomini tra i commissari e cosa dice? L'Italia, dice Zatterin, anche loro non hanno un pregiudizio nei confronti di Salvini, no, nessun pregiudizio nei confronti di Salvini, sono i classici giornalisti della notizia asettica che non hanno mai confondere le opinioni con i fatti, che è un'altra minchiata incredibile che disse questo direttore dei Panorama, una specie di ipocrisia popperiana, vabbè, ma comunque sia, che cacchio si è inventato Zatterin in un pezzo in cui dà ragione a questa signora Ursula perché il problema dell'Europa è che ci sono tante commissarie donne, si può dire deficiente? No, forse non si può dire, il commissario europeo mi mettono in galera, si dicono questa signorina, o offendono una persona signora, la baronessa forse è contenta, vuole che ci siano tante donne, tanti uomini, quanti abbiamo di nascita aristocratica e quanto di nascita popolare, quanta è la quota, diciamo, degli stronzi come me, vogliamo mettere quota stronze all'interno della Commissione europea o basta la baronessa? Beh, insomma, Zatterin invece di prendere per i fondelli un fatto che una Commissione europea voglia la parità di genere e non la parità di intelligenza, e cioè che siano persone per bene, dice l'Italia con il vicepresidente con la barba, l'Italia che è il vicepresidente con la barba, adesso è diventato come Berlusconi, Zatterin, le persone con la barba non le vuole, Berlusconi non vuole persone con la barba e Zatterin sfotte il vicepresidente con la barba perché è troppo macio, è così Zatterin, il nostro vicepresidente del Consiglio, l'avresti fatto nei confronti dei tuoi amici democristiani socialisti o radicali, loro sono tutti chic, no, lei col turbante, la bonina è fica perché è donna ed è col turbante che probabilmente deriva malattia di cui ovviamente tutti ci dispiacciamo, però quello va bene il turbante perché è della bonino, ma la barba non va bene, il vicepresidente con la barba dice gli italiani credono una cosa che non è del tutto vera e cioè che se va una donna ci avrebbe dato un portafoglio più importante, io dico ma noi stiamo discutendo dell'Europa, stiamo discutendo di un posto da 300 milioni di persone in cui il problema è la metà tra commissari donne e commissari uomini, noi stiamo discutendo di un posto in cui il presidente è una donna, stiamo discutendo veramente del fatto che la Banca Centrale Europea oggi è guidato da una donna e rompete le palle sulla parità di genere, rompete le palle sulla loro capacità, prendi una donna come la Trenta e la fa il ministro della difesa e ti metti le mani nei capelli, prendi una donna come la Pinotti e la metti il ministro della difesa ed è molto meglio, non stiamo parlando di partiti, stiamo parlando di competenze, basta quello, beh fantastico, Lega e Movimento 5 Stelle continuano a litigare, se ne sono dati di brutte sulla TAV perché il Movimento 5 Stelle dice alla Lega fate i fighi, i bulli con i voti del PD perché se non ci fossero loro non si farebbe la TAV e la Lega con il capigruppo al Senato, Molinari mi sembra e un altro dicono al Movimento 5 Stelle ragazzi dimettetevi se non vi piace questa TAV, la sfida di genere, le accise del diesel, il carabiniere e per oggi direi da Hong Kong è tutto, mentre qua ci sono le proteste uomini e donne, chissà se c'è parità di genere nelle proteste che fanno qua in Cina. Ciao!